Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Oka Challenger ATR7, il modello all-terrain di Oka, pensate per correre dalla strada allo sterrato, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito parlando del peso. Numero 42, queste Oka ATR7 pesano 252 grammi, nel mio 47 come al solito siamo sui 360-370 grammi. Queste Oka pesano un pochino meno rispetto alla versione precedente, però sinceramente questi pochi grammi non è che facciano la differenza, non si sentono granché. Iniziamo come al solito a parlare dalla suola. Qua troviamo una suola dura abrasion che ha il grande pregio di poterci far correre sia su strada che su sterrato, però quando parliamo di sterrato parliamo di sterrato veramente molto semplice, sentieri battuti, strade bianche, nulla di troppo tecnico, di troppo complicato, anche sul fango non vanno tanto bene, si tende a scivolare molto, e anche per quanto riguarda la durabilità, secondo me con queste scarpe se arrivate a 500 km sarà già tanto. Sempre per quanto riguarda la durabilità, qua abbiamo tanto intersuolo esposto come potete vedere. Questo nella versione precedente delle ATR, io ho potuto provarla, vi assicuro che è stato un grosso problema perché alla lunga si è andato a completamente disfare l'intersuola quando con il battistrada avrei potuto fare un altro centinaia di chilometri. Però, come vi dicevo, questo dura abrasion ha il grande pregio, insieme a tutta questa tacchettatura, di farci correre molto bene su strada. Vi assicuro che utilizzando questa scarpa su strada non sembra di avere una scarpa con una tacchettatura così alta, proprio perché i tacchetti sono molto vicini, molto grossi, quindi abbiamo un'ampia superficie che va ad appoggiare sul terreno stradale. Passiamo e arriviamo a parlare dell'intersuola, un'intersuola nuovo e rivoluzionato, un'intersuola che rispetto alla versione precedente è un pochino più reattivo, non tantissimo, diciamo un 10-15% in più, lo si sente un pochino soprattutto quando andiamo a spingere a ritmi abbastanza veloci, però in generale alla fine è un'intersuola molto ammortizzante perché comunque la stack è salito abbastanza rispetto alla versione precedente. abbiamo sempre un drop di 4 mm, però come dicevo essendosi alzato lo stack abbiamo un cushioning maggiore, quindi queste scarpe tendono ad essere molto più morbide e abbiamo molto più materiale di intersuola rispetto alla versione precedente. Continuando saliamo ed arriviamo a parlare della tutta la parte dell'automai iniziando dal puntale, un puntale abbastanza duro, non tantissimo, ci sono delle scarpe che sono decisamente più dure, però alla fine se prendiamo dentro qualche radice non la sentiamo particolarmente. Arriviamo a parlare poi di tutta l'automai in mesh, un'automai abbastanza traspirante, secondo me è utilizzata anche d'estate e ci si troverà abbastanza bene, ma non mi ha convinto anche qua la durabilità, io ci ho fatto 150 km con queste oca e vi dico già che nell'automai iniziano ad esserci i primi buchi, si è abbastanza sfaldata soprattutto nella parte anteriore, quindi la durabilità di questa tomaia non mi è piaciuta particolarmente. Per quanto riguarda poi invece tutto il resto della tomaia, soprattutto qua nella parte posteriore, è decisamente più rigida, fatta bene, c'è molto più materiale, quindi il problema di durabilità è soprattutto nella parte anteriore. E visto che parlavamo in parte posteriore, arriviamo al tallone, un tallone abbastanza strutturato con tutta una parte qua dietro abbastanza dura che ci tiene in carreggiata e soprattutto ci evita di prendere svirgolamenti facendo questo movimento. E in generale comunque un tallone che mi è piaciuto con questa conchiglia posteriore che sale molto alta e l'abbiamo già vista su altri modelli di oca, io mi ci sono sempre trovato bene soprattutto perché tende ad avvolgere molto bene tutta la parte posteriore del tallone e quando corriamo si sente che tutta la struttura posteriore ha un bel sostegno. Per quanto riguarda poi il collarino, questo risulta essere molto imbottito, non dà punti di frizione, non costringe il piede, quindi ha il giusto compromesso tra morbidezza e protezione del piede. Continuando, arriviamo a parlare della linguetta. La linguetta classica, imbottita, svolge bene il suo lavoro, resta ferma quando corriamo, quindi in generale funziona abbastanza bene. In sé anche i lacci molto classici, molto semplici, lavorano bene, tengono molto bene il piede fermo all'interno della scarpa, quindi anche loro funzionano bene. Per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede, è una grandezza standard. Diciamo che è un classico di tante oca, quindi se vi siete sempre trovati bene con altre oca versione standard, vi troverete bene anche con questa. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per queste oca challenge alla TR7. A chi le consiglio? Secondo me vanno bene un po' tutti. Vanno bene un po' tutti, sia dal runner che corre magari 4 al chilometro, dal runner che corre 6 al chilometro, dal runner più leggero al runner un pochino più pesante. È una scarpa abbastanza polivalente un po' per tutti. Non ci farei dei lavori super specifici, non andrei a farci ripetute a roba del genere. Magari va bene più per i lunghi, ecco. Per quanto riguarda il terreno, come dicevo, benissimo quando facciamo il passaggio da strada a sterrato, però restiamo sullo sterrato molto semplice. Non pensiamo di andare a farci magari dei trail in montagna o roba simile. Va bene magari quando facciamo il collinare oppure delle gare, mi vengono in mente esempio la Chianti Ultra Trail o la Tuscany Crossing, che sono gare dove abbiamo tanta parte di strade bianche, quindi per gare così può andare veramente bene. Prezzo, queste ATR7 costano 150 euro, online si trova probabilmente a qualcosa meno, secondo me il prezzo vale la spesa. Alla fine costano quasi uguali a quelle che era la versione precedente, dipende sempre da quello che poi ci dobbiamo fare. Secondo me come scarpa d'allenamento va più che bene. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!